ciao ragazzi eccoci qua alla quarta domenica di quaresima la domenica del ceconato la domenica della luce domenica scorsa abbiamo riflettuto su gesù fonte di acqua viva oggi la liturgia mette al centro gesù luce luce che illumina luce che apre gli occhi luce che fa diventare luce come chi beve l'acqua diceva la samaritana chi beve la mia acqua diventerà in lui una sorgente che zampilla per la vita eterna così chi viene illuminato da gesù diventa a sua volta luce nel giorno del battesimo come sappiamo tutti noi abbiamo ricevuto una candelina accesa e il sacerdote ha detto ricevi la luce di cristo ecco la luce di cristo questo meraviglioso brano del ceconato che merita di essere letto e riletto giovanni capitolo 9 tutto intero è veramente un brano meraviglioso che parla di due itinerari come dice mossione ravasi un itinerario di conversione quella del cieco che diventa vedente non solo con gli occhi del corpo ma con gli occhi del cuore e quella dei farisei e degli scribi che diventano invece sempre più ciechi come diranno gli ultimi versetti e quindi itinerario di conversione itinerario di perversione sì perché c'è il rifiuto di vedere la luce e c'è il rifiuto della realtà di voler ammettere il reale il cieco è molto concreto io non so tante cose dice anzi non so niente dice l'ex cieco io so una cosa ero cieco e ora ci vedo ecco la realtà dei fatti davanti a questa realtà per quasi tutto il capitolo ci si interroga come è potuto accadere che cosa vuol dire questa cosa visto che è accaduta di sabato e il sabato non si poteva né fare il fango come fa gesù e spalmato sugli occhi né guarire le persone e allora come può essere uno venuto da dio uno che viola il sabato il riposo del blog dello shabbat ecco la domanda che in interesi veramente mette in crisi i farisei ma ecco la domanda del cieco ma quest'uomo chi è che mi ha aperto gli occhi allora giovanni fa mostra in questo racconto proprio questo itinerario di un uomo che viveva nelle tenebre più assolute fin dall'infanzia e che piano piano si apre non solo appunto alla luce del mondo ma alla luce della fede perché perché parlando se uno legge attentamente il brano parlando di gesù dice un uomo chiamato gesù un profeta uno venuto da dio e alla fine in quel bellissimo questo crescendo no di di consapevolezza della persona di gesù e di al video incontra lo incontra il dialogo è bellissimo tu credi nel figlio dell'uomo dice gesù sentite queste proprio le domande battesimali credi in dio padre e chi è signore perché io creda in lui gesù rispose lo hai visto ecco questo è bellissimo lo hai visto è colui che parla con te e il cieco ex cieco risponde credo signore ecco questo è il vertice no di quel cammino di conversione l'incontro con gesù e la fede in lui di come figlio dell'uomo come colui cioè che porta la salvezza di dio e non è una cosa da poco è veramente la scoperta della fede la è la la gioia di avere uno sguardo diverso sulla realtà lo sguardo stesso di dio nel battesimo c'è stato donato questo sguardo ma dobbiamo tenere sempre gli occhi aperti gli occhi del cuore famosa la frase del piccolo principe non si può non citarlo no l'essenziale invisibile agli occhi non si vede bene che con il cuore ecco gli occhi della fede ecco lo sguardo nuovo il signore ci doni questo sguardo nuovo per guardare noi stessi prima di tutto e gli altri e le cose con lo sguardo di dio buon cammino di luce ragazzi ciao ciao